Il nostro pane quotidiano, libera a noi i nostri seguiti, come noi liberiamo i nostri seguiti, e non ci scopre in tentazione, ma liberaci dal pane. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, manda dal cielo il tuo angelo, che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga questo reparto e i suoi destinatori. Dà salute, pace e prosperità, e custodisci tutti del tuo amore. A te onore e gloria, nei secoli, nei secoli. Amen. Grazie. Grazie di questa. Allora, in Italia, sindaco. In mezzo, in un sinistaco. Ok, un attimo, un attimo, a questa parte. No, eh sì. C'è una mamma o... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bene, bene. Vai, bene. Vai. Go. Vai. Go, 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 go. Vai. Go, 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 go. Grazie. Grazie.